Allora, per chi non mi conosce, qui sono solo due, ma gli altri sanno di più, in buona sostanza sono un magistrato, sospeso dal servizio da parte del Consiglio Scuola della Magistratura, a seguito di una vicenda estremamente complessa nella quale casualmente, e poi sistematicamente, e adesso largando l'analisi, ha messo le mani su una vicenda da niente, come la presenza di sette esoteriche di stampo anche satanista nel mondo massonico militare, ha pesato, valutato, argomentato e ricostruito coperture eccellenti e delicate, si è anche accorto nell'ambito di questa sua piccoletta esperienza conoscitiva, intellettuale e professionale, no, perché non è un'attività di pandemia, di un qualcosa di più vasto, che prevedeva un certo ruolo organizzato dagli ciliari, a proposito del nostro bravo relatore, ma è un'attività di realtà, e si è accorto quindi che non avevamo determinato nulla, cioè che c'era una sostanziale realtà strisciante, coperta, non gestita, la cui copertura richiedeva risposte estremamente violenti e organizzate da coaguli di potere non visibili. Tutto questo è difficilissimo da spiegare, ma io non voglio rifare questa sorta di ricostruzione solo, perché oggi abbiamo a che fare con chiavi di lettura complesse, queste chiavi di lettura complesse sono state bussate ai precedenti interventi, e in realtà le cose sono ancora più complesse delle stesse chiavi di lettura. Quando nel 1905, se non sbaglio, il sostanziale inventore della geopolitica mondiale, si era posto il problema del cuore della terra, il gruppo euro-asiano, con miliardi di ricchezze naturali, come pericolo per il capitalismo dell'Occidente tradizionale americano, per l'Europa e per il mondo-asso, nessuno si sarebbe aspettato che pochi anni dopo, 12 anni dopo, gli stessi banchieri finanziassero la rivoluzione russa, nessuno si sarebbe aspettato che Lenin viaggiasse su quel carro per il dato con tutti i soldini e l'oro in sacroccio, sostanzialmente, ma nessuno ancora si sarebbe aspettato che durante la fase più pronta della rivoluzione russa, quella dell'economia di guerra, i soldi venissero restituiti ai rivoluzzi. Che cosa vuol dire? Che spesso c'è una eterogenesi di fini e una conduzione delle grandi scelte che non devono fare esagerare, nel senso che non c'è mai un solo cervello che dirige e decide, i meccanismi sono complessi, ma solo essendo all'altezza di questa lettura complessa dei fatti storici, poi li possiamo ricavare la consapevolezza di quello che sta accadendo nei nostri giorni. e è per questo che arrivare, come nel caso mio, con una discreta base storico-filosofica, esperienza anche diversa di tipo politico, prima di essere magistrato, e dopo essere sinceramente stato il magistrato che a me tutto il fuori di Roma riconosce, cioè uno che faceva dalla sua indipendenza, dalla qualità del suo lavoro, dell'impegno, la sua legittimazione, autorevolezza e non autorità, oggi ne abbiamo parlato, arrivare a conoscere tutta una serie di meccanismi, senza aver riconosciuto di prima con magistrato, ma a partire da un'esperienza concreta, a un chiedi atipico e un chiedi particolarmente forte. La storia, quella a monte, di cui parlerò brevemente, mi auguro, è molto semplice. Qualche percorso complesso e strano, nel senso che qualcosa di strano che era successo anche poco prima, una grossa indagine che aveva toccato un mondo particolare, quello del doping dello sport, degli sponsor dello sport e dell'uso di questo anche da parte dei soggetti che partecipavano in federazioni sportive nel 2005, una pianta stranissima che atteneva la mia vita privata, di quelle che normalmente accadono, ma troppo strana per essere facilmente classificata, nel 2007 mi trovo in un rapporto di coppia con una donna molto carina, molto strana e particolare, ex moglie o moglie separata di un sotto ufficiale che stava verso lo stato maggiore difesa e in un anno di osservazione di centomila profili che non vi elenco, gestisco, in un rapporto buono, dei dubbi sereni e mi trovo a vivere dentro una cittadella militare in una palazzina civile. Nulla di che voi ritenete essere parte del rapporto a due esisteva sul piano dell'incertezza interiore e cioè, tra tutto in linguaggio banale, nulla metteva in crisi la qualità del rapporto a questa donna, ma tutto lasciava intendere, anche osservando l'ambiente, che vi fosse una inimmaginabile realtà occulta, strana, fuori era di pericoli. Di certo registrai quello che accadeva dopo aver osservato mille cose all'interno di quella palazzina civile, primo, secondo, terzo piano e quarto piano, gestire la conoscenza di queste registrazioni con qualche difficoltà tecnica perché è uscito un giorno dopo aver visto una situazione stranissima, tornando su e dire, ora lascio acceso il registratore multimediale di un computer portatile, otto giorni di questa registrazione, l'analisi di questa, la riscopre con questa donna, avvalidissi che scappero succede qui dentro, il crollo, raccontare in parte alcune cose, premettendo mi hanno ritrovato, tra piccolette e parlava di quelli del primo, del secondo e del prezzo piano e, come dire, da lì un'immediata denuncia. Attività sessuale di gruppo, forse prostituzione, anzi certamente, meccanismi di pressione allo svolgimento dell'attività sessuale, uno stato alterato mentale che si sentiva e immediatamente la denuncia. Da questo nasce una vergenda, nel senso che io vengo letteralmente al cerchiato, invoco l'aiuto di un avvocato legato all'apparato, sostanzialmente, un magistrato molto indipendente, nessuno mi aveva detto nulla, lo prendo, lo conoscevo, anche lui era di quell'esperienza politica e gli dico trovami uno psichiatra, la psicologa per aiutare questa donna e gestiamoci anche l'analisi di quest'altro, perché non mi era materiale di fronte a quei guazzamuglio alquanto terrorizzante, non per me ma particolare. Insomma, la storia è andata che questo psichiatra, mentre io vengo aggirato in qualche modo da un paio di colleghi in particolare e anche dal procuratore capo che oggi è diventato sottosegretario al Ministero dell'Interno e mi ritrovai a gestire una situazione immaginabile. Nel corso di questa gestione l'analisi di quell'audio progrediva e nel progresso, perché arrivava sostanzialmente a queste tre, quattro coordinate, frutto del metodo di analisi concreto che è il frutto anche del mio lavoro, senza parametri culturali. Se dovessi dirmi che del Mildenberg ha usato solo il suono musicale direi già troppo per farvi un'idea di quello che succediva. L'analisi portava semplicissimamente a ritenere la donna scissa mentalmente, ci stanno gli sms mandati a questo psichiatra corrompo che mi incastrò, dicendo che si parla di DSM4, almeno di sindrome della doppia personalità, se non tre o quattro, e a fronte di questi due, tre o quattro, tre almeno personalità principali, c'era questo gruppo di persone che entrava, uomini e donne, ragionevolmente militari, c'erano attività e tecniche che io sono divisi in tre classi. Condizionamento mentale attraverso tecniche musicalizzanti e frasi medievaleggianti, badate che è una costruzione empirica. Questo attraverso le registrazioni. Ma attraverso l'analisi dell'audio, la sua classificazione è una griglia. Ma puoi specificare dove erano? Un merito giusto che veniva dentro casa. Tu ha? Dentro casa dove veniva io quando uscivo. E infatti c'era tutto un ragionamento rispetto a questa vicenda di complesso. Tecniche di condizionamento mentale a struttura di tipo apparentemente ipnotica, con ricorso a un canto e una vocalizzazione sonora della donna intermezzata da comandi. C'è un libro? Il tutto, grazie, il tutto avveniva spesso con tecniche sussurrate e moduate vocalmente e poi comandi sintetico e vocali a cui corrispondeva addirittura all'attivazione del soggetto in quanto pronunciati da militari a me sembrano l'impronta militare. Non mi so raccontare tutta la storia, non mi so raccontare che arrivai a strade cristiani e a classificarli, a registrarli, che tutto fu affussato e distrutto, non ho fatto nessuna indagine, che a un certo punto produciera uno sdraio, che poi fece un sequestro di persone nei confronti organizzato da Pelo Psichiatra a Monte che era un luminare di apparato già comunista. Ma quello che vi devo raccontare è che di tutta questa storia, che vedrà poi attacchi tramite il suo lavoro professionale, l'improvviso era diventato uno dei migliori magistrati d'Italia, un magistrato strano in crisi per una crisi di un rapporto di coppa che non c'era, perché quella donna la sopportava da spostamente andandosi a fare anche il figlio, non vi sto a dire che il carabiano più analizzava e più uscivano bambini, in quella realtà, non vi sto a dire altre cose, ma certo tutta questa vicenda ci aveva un colore di casta professionale e addirittura apparentemente politico. E questo ve lo dico chiaro e tutto, perché non solo c'erano tre magistrati deviati che avevano organizzato ciò che si piava bloccare Paolo Ferrero e che coprivano patentemente questa vicenda, non solo si parlava di militari, altri ufficiali nel cuore della cittadella, non solo si parlava di un paio, poi tre o quattro psichiatri che si erano mossi per contrastare questa vicenda, ma si parlava di gente che diffondeva incredibilmente sull'Aurentino il quindicinale lotta comunista. Lotta comunista è un vecchio attrezzo del passato, ma è un obluscolo che io insieme a manca ancora esistesse, io ricordavo negli anni 70, che sostanzialmente autorizzava l'esercito del popolo e questo non darebbe ancora a questa vicenda, perché se una sette esoterico satanica, poi vi dico anche perché la fanno i militari forse all'attività di copertura, ma anche i magistrati, lo parlerò, e addirittura l'interfaccia di uno di questi che era un magistrato ancora oggi di responsabilità nazionale, appartenevano a magistratura democratica. Non è che inizia perci il cognome di questo? Ovviamente sì, ha rivendicato quello che mi è stato fatto, ha detto che era stato fatto sulla sua responsabilità e si è fregato definitivamente perché se mai avessi avuto un dubbio che era una questione di apparato ed era controllato da questi 5 o 6 soggetti che sapevano queste storie, lì mi sono tolto definitivamente. E sì, perché dentro questa storia, per me che ancora in qualche modo elasticamente credeva le categorie della politica e il concetto di sinistra e destra, dopo averlo destrutturato in bacheca per capire, aver spiegato 5 anni prima che ciò che faceva l'uno e ciò che faceva l'altro erano troppo simili perché avesse ancora un fondamento a questa vecchia distinzione che teneva gli scrambi nel Parlamento Sappaudo, orientandomi in questa vicenda e sapendo che questi magistrati di Apparato, dal primo al secondo in particolare, avevano sempre rivendicato la loro contiguità e completa condivisione del metodo politico con D'Alema, attuale presidente, capo del Copasi, uno strumento che ha una sua storia particolare e riuscì a capire questa cosa, in quel contesto, con un attacco che era passato anche utilizzando un paio di parenti che avevano problematiche loro e riuscì a capire come tentassero di costruire l'opposto da me. Controllando anche questa povera donna, la quale a un certo punto si era richiusa, non è vero nulla, se tu che sei strano eccetera eccetera, ma poi aveva scritto stai attento, la verità ti porta al Santa Maria della verità, io l'ho capito solo dopo lo schema che seguiva, e aver poi ottenuto anche da questa donna sostanzialmente uno sbandato dichiarazione scritta di consapevolezza della follia di quello dell'accaduto e delle sue paure, con 250 mila indizi a monte del suo stato mentale, bene tutto questo guazzapuglio, lo sforzo più grande non è stato capire come avessero utilizzato, strumentalizzato alcuni parenti, ma è stato capire come si potesse leggere una vicenda leggera dove c'era uno psichiatra, l'apparato che era lo stesso Luigi Cancrini, tentava di dimostrare le patologie mentali di Berlusconi, dove c'erano magistrati che erano storici, magistrati non democrati, e io ero uno di quelli che si era sempre abbattuto contro questi magistrati, badate bene, perché fino allora parlavo di deviazioni dell'organizzazione, del prassi occulte strane di potere del CSM, ma a un certo punto mi sembrava che l'occulto crescesse corticosamente, e mentre tutta questa presenza mi ha richiesto, mentre mi difendevo, mi hanno fatto per sei mesi quello che mi distrutto chiunque, è stato complesso. In questa analisi un po' mi ha aiutato la capacità logico-induttiva, un po' la forza di carattere, un po' il consiente intellettivo, un po' la sensibilità, la curiosità, e gira che ti rigira in un percorso molto complesso anche di autodifesa e liberazione, da quelle che adesso chiamerò piste massoniche, quella psichiatrica, quella istituzionale, quella di apparafe politica, che testimoniare una centinaia di documenti che poi metterò a un certo punto quando lo riterrò un po' tutto in rete, sono riuscito a capire che mi si era materializzata con le prime prove concrete possibili una realtà ignota alla massa. E io ero la massa in quel momento. E lì allora persino la difesa, scegliandomi uno psichiatra, tal Francesco Bruno, anche criminologo, riuscendo con lui a costruire un dialogo in cui, come dico scrittosamente da Guerre Stellari, il Fene, confrontandosi col Biondino, si era aperto, ma lui aveva fatto sostanzialmente aperto Scenari. Scenari che un magistrato, che aveva scritto da sempre del porto delle nebbie nei confronti della procura di Roma e che conosceva a ritroterra della sconto tra Falcone, Borsellino e di apparati istituzionali magistrati, aveva sempre letto, ma anche quella chiave politica che oggi anche tu hai utilizzato, che io tranquillamente ritengo oggi superficiale. Non che non sapessi che Falcone aveva detto delle cose particolari di Borsellino, non che non intuissi o sapessi che avessi detto addirittura che era stato Borsellino ucciso dallo Stato e la macchina era stato solo lo strumento, ma percepirlo concretamente, poterlo dimostrare concretamente con gli altri e doverci riflettere era un discreto stimolo sul piano storico. Questo stimolo mi ha consentito di approfondire tutti questi temi, seguirmi in vari regoli, ricostruire una certa di organigramma dei magistrati di apparati dei viati, dell'avvocato, anche quello un avvocato, come dire, di grido, l'avvocato di cui vado, che parlava sempre di contestualizzare e poi spariva e due giorni dopo mi successe quella cosettina che vi ho detto dell'incendio, più alla forleo maniera, più un sequestro di persone patito due giorni dopo, era quello, era Petrucci Luca, presidente dell'Ater, era l'avvocato che mi doveva affiancare in quei momenti. Mi consentì in una lotta estremua, tutta sola, badate bene, di liberarmi passo passo con la forza della mia logica giuridica, ma anche della capacità di battagliare sul piano dei valori e dell'identità, trovando piano piano avvocati e altro, di arrivare a un momento in cui persino un ospedale che si era prestato, ammise improvvisamente del sequestro di persona, cioè una invenzione costruita per bloccarmi, perché stavo per andare a suo tempo a Perugia a denunciare tutto, della presenza di persone pericolose dichiarata e altre sì di interferenze che arrivavano da parte di qualcuno che cercava di dire che facevo sbagli o errori nell'ufficio, ma da bene sono il magistrato che ho inventato il magistrato automatico, per dirvene una, cioè nel 1996 ho costruito un sistema che con un PIC gestiva 12 mila procedimenti penali in base a meccanismi organizzatori che attengono l'intelligenza artificiale, ottenendo il risultato finale congruo e ottimo, e venuto l'altro di più dalla mia esperienza professionale su vari piani. Attraverso questa faticosa ricostruzione, con lo psichiatra che mi discrisse il modello teorico, i centuriori, la religione sostitutiva, le sacerdotesse del sesso, uno psicologo che poi il proletto che dopo avrebbe parlato di colpe strisciante, capendo che c'era una logica minacciosa che si riferiva a un qualcosa che doveva succedere nel 2012 e non aveva certo una revisione di queste psicotiche o maniacali, fai zitto per due anni, non devi parlare più, mentre implementavo la mia pressione all'interno dell'ufficio informando, sono arrivato alla certezza che quella realtà non solo esisteva, non solo la nuova violazione, ma era, come si sentiva anche nelle registrazioni, ferocemente antipelusconiana, perché tra un'attività sessuale, una violenza, una tecnica di condizionamento e una psicologia, c'erano gli accherate ferocemente antipelusconiane e affettuosamente la povera ragazza monarch ridotta a vari pezzi di mente al velare da un uomo, dalla voce acuta e dura di nome Attilio, ma altro non vi posso dire perché c'è una vicenda in corso giudiziale molto importante, che io mi auguro, veniva chiamata Pol Pot. Scusa Paolo, puoi spiegare il termine monarch? Perché forse non tutti lo conoscono. Lo chiameremo spiegare molto, veniva chiamata Pol Pot. Proseguirà questo percorso, io arriverò alla certezza, perché la serie di minacci non non vi faccio l'ecco perché sono, e se stesse un solo romanzo, tenevano a che non uscisse fuori nulla fino ai primi del 2012. E a un certo punto io subirò il procedimento per dispensa dal servizio, quello si verrà insabbiato perché non potevano inventarsi nulla, perché un magistrato possa essere dispensato oppure che non abbia la capacità lavorativa e altresì che abbia uno stato patologico tale da non poter essere oggetto di un percorso di parigi. Mancavano, chiaramente, entrambi i fatti, ma era liceo, perché io continuavo a essere un magistrato alla legge di quantità e qualità normali, persino nel periodo in cui ho dovuto subire la componente chimica di quella pressione nei confronti. questo percorso lungo di lotta pesante arriverà a un nuovo tentativo di procedimento di dispensa dal servizio nel momento in cui io cominciavo a informare i colleghi, avevo cominciato a fare questa analisi dell'aglio un pochino più implementata e soprattutto avevo le delle chiave su chi mi si era mosso intorno e con quali modalità. Nel momento in cui crescerà questa ultima venenza, io avvertirò il Consiglio del Sud della Magistratura fino a Paolo Ferraro rimasto con un piede dentro la fronte d'ontologia, la vicenda è troppo grossa, io vi invito a prendere atto del livello di questa vicenda, ma nel frattempo avevo necessariamente depositato una denuncia di circa 90 pagine, più 130 di allegati, più indiffutivi aure, documenti, intercettazioni, registrazioni e mille altre cose alla Procura di Perugia. L'aspetto giudiziale non ci riguarda, quello che mi riguarda è che quando nel 16 giugno del 2011, di fronte all'Avvocato che mi sta qui davanti sulla sinistra ed altre persone, fece una conferenza stampa, il messaggio che la c'è è il segreto, qui c'è sotto qualcosa di molto grosso, questo qualcosa di grosso non attiene neanche solo a rapporti tra vertici deviati, cancestratura, pedofilia organizzata, attività sessuali, c'è qualcosa che ha a che fare con qualcosa che succederà all'esterno e succederanno dissi cose eclatanti e pensavo sia a meccanismi di terrorismo, che abbiamo oggi accennato, che ad altri fatti economico-sociali e dal momento in poi sono diventato un discente, perché ho conosciuto questo mondo, a me ne ho completato. Come l'ho conosciuto, e vi parlo affettuosamente, mi ho individuato un limite interno che io chiamerei culturalismo e che è quello di cui oggi ha parlato Solange di Manfredi, perché le conoscenze fatte del passaparola culturale o della mera indicazione verbale o letteraria di dati non erano adeguate al fine di poter essere utilizzate all'esterno. Così, del pari, non erano adeguate, come dire, le analisi politico-economiche che dal punto di vista mio si limitavano a individuare l'alternativa globale alla crisi economica medante la realizzazione della maniera, nominando o individuando il tema solo astratto, che ci andava articolato più confetto, della moneta del popolo. Da allora in poi il crescendo di elementi conoscitivi è diventato molticoso. Nel senso che quelle tre tecniche di cui vi ho parlato io, e cioè condizionamento psicologico, condizionamento mentale con tecniche di tipo psicanalitico e comandi sintetico-mogali, è improvviso entro uno. Il nome era Blue Bird fin dal 1953, da 1953 poi il progetto MKUltra e quindi il progetto MOA. Era quella cosettina da niente, studiata dai servizi segreti americani del dopoguerra, importando nazisti dei Lager, in base alla quale l'esperienza dell'Ager aveva fatta violenze sulle privazioni, tecniche anche di pressione mentale strutturate, aveva costruito la consapevolezza nel mondo dei medici nazisti che si poteva artificialmente creare la cosiddetta mente alveare nei marcapitati di parecchie centinaia di migliaia di persone, ma la sperimentazione è prodotta, io presumo, una mente alveare. C'è una sorta di piccolo alveare in cui in ogni casella si poteva mettere sostanzialmente una persona. Una mostruosità. Ma finché la leggevo, libri e articoli, dico va bene, è certo, io ce lo rispondo è questo, ma a un certo punto ho conosciuto una persona che ho già parlato, che stimo molto, che semplicemente esiste la banca dati, e cioè il progetto è peccato, non il libro suo. E non potete capire la faccia dei magistrati di terra quando depositato non il libro suo, solo con gli articoli, con gli audio, ma il progetto. A che serve il Monarch? Monarch è la tecnica, secondo la quale, tra i schiavi. Schiavi convenienti, schiavi programmabili, schiavi con diversi ruoli. Linearissima e diretta l'uomo destinato alla missione amicitaria, o l'uomo militare destinato alla missione, che richiede un livello di coraggio, un livello di comportamento non consono alla media degli uomini, ma poi ci stanno uomini un pochino di coraggiosi anche senza tecniche monarche. Le donne, elettivo per le donne è la riduzione a vera bestia sessuale, eliminazione del meccanismo di controllo dell'ambito, quindi elettivamente destinato alla prostituzione o a fornire il servizio del sesso di gruppo negli ambiti ristretti, ma anche di fornirlo in ambiti, virgolette, di pagina pubblica, attrici, pornoattrici, donnine destinate al rapporto con i politici o con i militari da ricattare. E queste donne avevano anche altre attività elettive tipicamente collegate al traffico di droga, l'ordine è quello di andare a prendere il portale e poi, guardate caso, alla pedofilia e alla pedopornografia. Questa mostruosità l'avevo registrata nei confronti della donna che amava, della quale era amata senza che le sapesse chi era. Ma per caso hai fatto questa cosa? Questo fatto non fu affatto fatto per caso, fu affatto attraverso un'analisi logica complessa di 100 elementi indiziali che richiederebbero 6 ore di analisi. E l'abbiamo fatta in un'altra serie con una grande fatica perché addirittura sono state a registrare 12 ore, non si sa mai, non si sa mai perché dopo 100 minance e dopo l'ultima pubblicazione che non vi dico sulla rete, lì c'è la prova scoperta. E torniamo al filologico che non si limitava a ciò. Perché nei racconti a monte c'era una viaggio a Napoli continui e a Napoli c'era anche, mettiamo anche, il comando che si occupava dell'attestamento dell'esercito. C'erano viaggi anche a Milano o a Genova, ma io di Ascoli Piceno non avevo potuto parlare. Il magistrato che mi aveva cerchiato lo vincitato. Il dubbio che faceva questa attività non giudiziaria all'interno ufficio non era il dubbio, erano pagine e pagine gli appunti su persone state che arrivavano. Insomma, il 23 marzo del 2011 vedrò un personaggio particolare, una bellissima donna mora vista alle spalle e poi vista al profilo. Non vorrei dire la parola carina, simpatica, perdonarla anche se il maschio è stato una significativa gnocca di una ora, molto magnetica, molto bella, mai vista, a un terzo piano alle 19.30 di pomeriggio, che vedrò anche in girata di profilo. Quando depositare la mia denuncia il 7 marzo, compaggia sull'aldadina il corpo di pezzato della donna tagliato le gambe, tagliato la testa e svuotato dagli organi. Nel memoriale che presenta a Perluggia parlai di una donna sposata con un bambino di una certa età, che era fuori uscito dal gruppo, perché io questo l'avevo capito attraverso le leggi, eccetera eccetera, e cadrà lì vicino a Cecchignolo, la Doppagnotta, una madre che avrebbe preso il coltellato di una bambina tre volte insieme alla bambina, allora uscirà un altro cadavere tagliato uguale, quello della donna della Cecchignolo. Ma soprattutto, mentre mi dibatto con la procura di Perugia, la quale di fronte a 70 pagine che descrivevano 20 fatti specie di reato increscendo, e io a parte c'ho proprio di capito di imputazione che ho scritto, con un elenco di prova che avrebbe come dire iniziare che erano semi-prove piene, e con 30 pagine di richieste istruttori fatte da me, che ho fatto 113 mila procedimenti penali l'anno in tutta la mia carriera, e voi potete immaginare come, mentre mi ribattevo in queste vicende in cui addirittura a Perugia il sentore era quello di chiudere tutto e nascondere, seduto a un tavolino a un bar, vedi sta foto a destamore, capelli lisci però, moglie di militare allo schermo mi tornava, cappero con lo stesso viso di quello che avevo visto in procura di Perugia, no però hai capelli lisci. Dopo tre giorni ero visto.